Un premio letterario come il Campiello, in un'epoca in cui il digitale ci ha portati giocoforza a sperimentare continuamente l'uso del testo breve, quindi delle forme sincopate di espressione, rappresenta in qualche modo proprio una sorta di simbolo, quindi una grossa differenza, una grossa distinzione nel testo lungo che racconta in maniera più ampia, articolata, approfondita, vicende, storie, esperienze, stati d'acqua. Quindi da questo punto di vista proprio nel confronto dei giovani troviamo un interesse molto importante, lo troviamo perché scopriamo tantissimi giovani che vogliono sperimentare, scrivono e che partecipano quindi all'edizione del Campiello Giovani, molti che leggono in generale, fanno parte anche della giuria, dei letterati, quindi c'è un coinvolgimento che vuole promuovere il premio letterario come momento importante della cultura italiana. La letteratura è un elemento fondante per far crescere, sviluppare, rafforzare la preparazione nella conoscenza dei nostri giovani e dei nostri futuri imprenditori, dei nostri futuri collaboratori.